Come già rilevato dalla relatrice, noi non veniamo chiamati ad esprimere un voto a favore o contro la colpevolezza dell'interessato, ma soltanto a valutare sul fatto che le intercettazioni siano state captate in modo casuale o meno e il fatto che siano indispensabili per la chiusura dell'inchiesta. Dopo aver richiesto all'autorità giudiziaria la documentazione necessaria ed avere con rigorosa analisi verificato che queste due premesse sono rispettate anche a nome del gruppo del Partito Democratico, consegnando l'intervento nella sua formula integrale, esprimo appunto un voto favorevole quindi per l'accettazione della richiesta all'autorizzazione e all'uso delle intercettazioni. Grazie, Presidente. La ringrazio Onorevole Garavini, a questo punto se nessun altro chiede di intervenire per dichiarazione di voto indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla proposta dell'Aggiunta di concedere l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni e conversazioni nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, preciso che chi intende concedere l'autorizzazione deve votare sì, chi intende negarla deve votare no. La votazione è aperta. Nel frattempo che i colleghi prendono posto salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto Tecnico Commerciale e Liceo Linguistico Lucio Lombardi Radice di Roma che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Mongello Grassi Aspettiamo gli ultimi colleghi che prendono posto e poi chiudiamo. Martino Magnato Altri La votazione è chiuse La Camera approva Avverto che lo svolgimento delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 febbraio 2016 avrà luogo nella seduta di mercoledì 17 febbraio alle ore 17. L'organizzazione dei tempi per la discussione sarà pubblicata in calcio al resoconto stenografico alla seduta di oggi. Onorevole Sarro ha chiesto intervenire per fine seduta. Prego. Grazie Presidente. Per portare all'attenzione dell'Aula una vicenda molto singolare sulla quale peraltro personalmente con i colleghi della Delegazione Parlamentare Campana di Forza Italia abbiamo intendimento di presentare apposita interrogazione al Ministro dell'Interno una vicenda che riguarda un quartiere tra i più difficili e complessi della città di Napoli, quello di Scampia, dove opera da anni tra estreme difficoltà.